I capelli biondi, occhi azzurri e labbra naturalmente carnose. Impossibile aver dimenticato il volto di Tilane Blondeau, che a soli, sei anni è stata eletta la bambina più bella del mondo Figlia d'arte la mamma e la showgirl e presentatrice Varanica Lubri, mentre il papà e l'ex calciatore Patrick Blondeau, Tilane aveva quattro anni quando è stata notata dallo stilista francese Jean-Paul Gaultier, che l'ha fatta sfilare a uno dei suoi show Da allora, la carriera di questa bambina bellissima è stata in continua ascesa appunto a dieci anni Tom Ford la sceglie come modella per il numero di Vogue Francia di cui era West Editor. È la più giovane modella ad aver mai posato per la rivista Vestita con abiti corti e molto truccata, Tilane ha diviso il pubblico, attirando sul designer molte critiche in merito ai rischi del mondo della moda per le ragazzine troppo giovani L'unica cosa che mi sconvolge di quelle foto è la collana che Tilane ingossa, in cui un valore è di 3 milioni di euro, dichiarò allora la madre Punto di recente l'abbiamo vista incantare la cruisette sul red carpet del festival di Cannes 2018 Era vestita come una vera principessa, con un abito in chiffo nero personalizzato da Alberta Ferletti caratterizzato da una gonna ampia e gonfia, un corpetto senza spalline, e un grosso nastro per segnare il punto vita Capelli sciolti, trucco snuchiais per dare risalto ai suoi meravigliosi occhi celesti e una collana a catena d'argento Perché adesso si parla di lei? Perché è diventata la ragazza più bella del mondo 2018 La Neblandu, 11 anni dopo essere stata eletta bambina più bella del mondo ha ancora una volta conquistato l'ambito titolo, arrivando in cima alla lista dei premi annuali del Ticicandlar del 2018 I premi, istituiti nel 1990, sono attribuiti come ad un concorso, ma il metro sono le visualizzazioni che i video accumulano e per vincere, devono superare i 2 milioni di visualizzazioni in soli due giorni Ilan è arrivata prima e su Instagram ha ringraziato tutti, non riesco ancora a crederci, grazie mille chioccio la Ticicandlar a tutti coloro che mi hanno votato Non avrei mai pensato di essere la numero uno in assoluto. Sono grata a tutti voi Grazie a tutti